Notizia sciocca che potrebbe cambiare le soluzioni presidenziali americane e il presidente Biden, quanto riportato da The Report del New York Times, sarebbe iniziando ad accettare l'idea che non sarebbe in grado di battere Donald Trump e di conseguenza potrebbe ritirarsi precocemente dalla corsa alle presidenziali. Hi guys, qui è Ryan Melgosto Crypto, finalista di fiducia e in questo video voglio subito aggiornarvi con quello che sta succedendo sul mercato delle criptolute perché guys, come andremo a vedere, abbiamo diverse cose super impattanti che dobbiamo prendere in considerazione per il prossimo andamento degli asset cover Bitcoin e il resto del mercato crypto. Però adesso guys, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ma soprattutto attivate la campanina perché questo fa la differenza, fa perdere soldi sui mercati e invece essere profittabili. Diamo un contesto a quest'analisi partendo dalla crypto heatmap, un po' come tutti i video, in modo da capire come si sta muovendo il mercato in base agli eventi che stanno impattando adesso tutti i mercati. Infatti vediamo come Adomaradong in ansa leggermente incalga il 53,7%, Bitcoin in ricorrezione dell'1,55% con un Bitcoin che sta quotando 63.800 dollari. Ethereum sta perdendo un 1% quotando a 3.800 dollari. In linea generale non abbiamo una direzionalità ben precisa perché abbiamo per esempio Solana che guadagna un 2%, allo stesso modo abbiamo per esempio XRP che sta appunto correggendogli un 5,29%. E anche vi dirò che per quanto riguarda XRP negli ultimi sette giorni ha fatto delle buone performance, perso rialzo, quindi sta avendo una correzione per questo motivo. In generale la global crypto market cap, vediamo come è in ricorrezione di uno scarso 1%. Allora da parlare di Bitcoin c'è poco da dire effettivamente, anzi voglio mostrare due schematiche molto interessanti. Innanzitutto abbiamo rotto il livello e si è fatto qui il massimo precedente. Stiamo adesso ritestandolo, quel che voglio vedere uno scenario bullish o comunque sia quanto meno positivo è, magari un avvitacimento di queste zone, leggermente sotto la penne della liquidità, magari indurre le persone ad andare short, per poi comunque andare a liquidarle, prestando verso l'alto. Ok, che il prossimo target, qualora questo pattern dovesse confermare, si potrebbe essere i 67.700 dollari. Vediamo come però si sta presentando una schematica di Wyckoff, una Wyckoff Accumulation. Vedete come questo è il pattern del di Bitcoin e si sta proprio palesando esattamente questa schematica. Siamo più o meno successivi alla fase di Spring, ciò vuol dire l'ultima fase di ripescatto di liquidità dell'ST e adesso potremo fare l'ultimo test che potrebbe coincidere effettivamente con quello che abbiamo già anticipato per poi un'espansione verso l'alto. Parlando di Bitcoin ETF, attraverso i Bitcoin ETF che fornì la CoinHank, vediamo come la giornata di ieri è stata una giornata positiva. Infatti abbiamo avuto un inflow di 84,8 milioni, di cui 102 milioni sono provenienti da LifeShort Bitcoin Trust, ovvero l'asset ETF gestito da BlackRock. Inoltre, Rayscale Bitcoin Trust ha distribuito al mercato di 21,5 milioni di dollari. Guys, rimanete fino alla fine perché siccome tantissime persone mi avete chiesto se potevamo continuare questa promo, ovvero la promo di Tabbit sul bonus deposit fino a 2.000 dollari, vi spiegherò prima avanti per chi non ha avuto modo di accedere, come accedere. Quindi, rimanete incollati fino alla fine. Prima di passare alle news impattanti del mercato, voglio andare a vedere insieme a voi come sta andando il DXY. Infatti, guys, per adesso vediamo come sta attualmente ricorreggendo, riassorbendo durante questo downtrend. Infatti, è per questo anche che Bitcoin, se conoscete un po' le dinamiche di mercato, sta avendo una ricorrezione. Questo perché? Perché anche il DXY sta ritrovando il terreno sul DEI. Non è niente di troppo preoccupante. Siamo orientati però di sopra del minimo precedente. E attenzione perché, se vogliamo vedere una continuazione verso il ribasso di Bitcoin, dobbiamo far sì che questo sia soltanto una presa di equità, indurre le persone ad andare lungo per poi continuare verso il ribasso. Ovvero che questo sia soltanto un ritracciamento più profondo. Tuttavia, ragazzi, sapete bene come abbiamo un gap sul Bitcoin, CME e Futures. Molto importante da andare a analizzare. Infatti, abbiamo un bel gap ancora aperto tra i 57.750 dollari e i 60.865. Quindi, addirittura c'è chi, Bushitra, che potremmo andare a colmare questo gap. Poi vanno ad andare a vedere una correzione verso il rialzo. È vero che comunque sia una correzione del genere che potrebbe andare ad imbaliare tutto questo spring. Quindi, molta attenzione. Con lo dicevo, mellinto, guys, il presidente Trump pare che, secondo il report del New York Times, abbia iniziato ad accettare l'idea che potrebbe non essere in grado di battere Donald Trump nelle prossime presidenziali, vista anche l'età e visto il consenso che sta rendendo anche Donald Trump negli ultimi tempi. E, di conseguenza, potrebbe valutare di lasciare la corsa al rinnovo presidenziale per le prossime elezioni. Ci sono diversi rumors che stanno circolando dove vedono Trump che annuncerà, o allora fosse eletto, una Bitcoin, strategic reserve, all'interno degli Stati Uniti. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che potrebbe tenere backed il dollaro americano con Bitcoin, risultando in un massivo bind pressure di Bitcoin stesso e, di conseguenza, un incremento di domanda mai visto nella storia di Bitcoin. E questo potrebbe portare dietro con sé altre nazioni che potrebbero utilizzare Bitcoin come riserva strategica. Ok? Ovviamente non vedremo una situazione dove Bitcoin sarà il backed completo del dollaro, ma stiamo parlando di cifre molto minime. Però, parlando della Fiat currency più importante al mondo, potrebbe essere una novità e soprattutto un gain changer per Bitcoin. Come dicevo, guys, per chi non è riuscito ad ottenere il bonus sul deposito di 2000 dollari, perché non è orientato nella scorsa promo, ho voluto farmela estendere, data l'alta richiesta. Infatti, avete la possibilità, per questo anno maggiore o uguale di 500 USDT, di ottenere un bonus percentuale di circa il 15% sul deposito, su 1000 dollari un 20% e fino a 5000 dollari, con una limitazione massima di 2000 dollari di trading bonus, a reti di 40%. Attenzione, perché non è come i classici trading bonus, perché, infatti, se riuscite a fare un profitto del 3x, cioè, riuscite a trasformare 2000 dollari almeno in 6000, avete la possibilità non soltanto di prelevare i profitti, ma anche i droboros, praticamente 6.000 dollari di profit. Guys, tutti i link qui sotto nel box, iscrivetevi al canale, attivate quella maledetta campanellina. Da Ryan è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ovvero domani. Bye! Ciao a tutti!